ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video l'inverno alle porte qualcuno ha già iniziato a scaldare la casa un video rivolto soprattutto a chi abita in un condominio tipologia di esempio un alloggio con i termosifoni con tutte le testine termostatiche quelle con i numeri da 1 a 5 normalmente e con il contacalorie sul termosifone questo cosa vuol dire vuol dire che voi non avete la possibilità di decidere quando far partire il riscaldamento voi avete solo il controllo della regolazione sul singolo termosifone più tenete alto il valore della testina più il termosifone scalda più il contacalorie misura tra virgolette consumo e più vi aumenta il costo che vi viene conteggiato nelle spese condominali come ovviamo questo problema con delle valvole delle testine termostatiche smart come questa che ha tirato fuori sonoff ne avevamo già provata una della tuya proviamo anche questa della gamma sonoff del produttore tiad perché voi in questo modo potrete gestire ogni singolo termosifone su cui sostituite la testina con questa per ottimizzare i consumi quindi non serve impostarlo a 4 tutto il giorno perché magari non ci siete poi arrivate a casa trovate la casa si calda ma avete speso un sacco di soldi potete tenere un valore un po più basso tramite delle programmazioni che potete fare con questa testina riguardo dei programmi automatici come fosse un termostato di un impianto indipendente o potete addirittura decidere di attivarla magari in modalità manuale un'ora prima di arrivare a casa potete addirittura poi costruire degli scenari perché dico scenari dico tutte queste cose perché questo è un dispositivo che si connette tramite l'applicazione e we link per comandarlo in tutti i suoi aspetti e diventa completamente programmabile non è però un dispositivo wifi quindi non basta comprare lui per collegarlo al wifi di casa è un dispositivo zigbee per creare una rete di dispositivi zigbee serve un hub quindi un dispositivo che comanda tutte queste periferiche zigbee in casa vostra e quell'abb sarà l'unico dispositivo che si connette al wifi di casa vostra poi ci sono anche degli hub che si collegano direttamente alla rete via cavo ma oggi ve ne farò vedere uno che è il sonoff bridge che è uno dei più utilizzati e va benissimo tornando a parlare della testina avrete un controllo completo a livello smart di tutto quello che è la regolazione di ogni singolo termosifone questo vuol dire comprarne una per ogni termosifone che vi interessa domotizzare per risparmiare ma anche per avere più comfort perché magari in qualche stanza fa troppo caldo allora non serve tenerlo sempre alzato si può abbassare poi le esigenze cambiano ci sono vari modi di gestirla ora lo spacchettiamo la montiamo facciamo un po di prove ve la faccio comprendere un po meglio eccola qui sonoff valvola per radiatore termostatica controllo preciso della temperatura sicurezza per i bambini possibilità di tempi in modalità smart una memorizzazione un report di tutto lo storico delle attivazioni temperature eccetera possibilità di rilevare l'apertura di una finestra null'altro la tiriamo fuori questi sono tutti i nuovi imballi sonoff molto molto più curati di una volta diciamo prima scatola a scivolo estrazione poi dentro troviamo una seconda scatola nera molto elegante apertura la nostra valvola su cui ci soffermiamo dopo scatolina con accessori e manuale partiamo dagli accessori e come al solito con le valvole termostatiche troviamo un sacco di adattatori per adattarle a tutti i vari tipi di valvole che potremmo trovare questo un semplice riduttore ce n'è di vari tipi andiamo subito alla nostra valvola bianca opaca realizzata con una plastica molto molto robusta non sento scricchioli o roba chip il materiale qui cambia vedete la differenza di colore probabilmente perché questa parte giustamente è rinforzata perché la parte che ospita la ghiera per attaccarci alla parte metallica è il motorino col pistone che fuoriesce da qui qui abbiamo un pulsante per l'apertura ok si sfila completamente il coperchio e abbiamo accesso a tutta la parte interna vedete qui c'è il display c'è un pulsante di reset non vediamo la parte interna del motorino ma vediamo l'alloggiamento per le tre stilo quindi tre stilo amazon home ovviamente link in descrizione le inseriamo come indicato dal verso non possiamo sbagliare perfetto vedete che si illumina il display a questo punto dobbiamo aggiungerla nell'applicazione che poi andrà a comandarla gestirla creare tutte le scene tutto quello che vi viene in mente di poter fare con una valvola termostatica smart per comandare quindi un prodotto zigbee non wifi perché ci sono i prodotti wifi che si collegano da soli alla rete wifi di casa vostra ci sono i prodotti zigbee che lavorano in un altro modo ma che soprattutto consumano meno a livello di energia un prodotto del genere che ha già un motorino e che deve essere alimentato da delle stilo se fosse stato wifi l'autonomia sarebbe stata troppo breve quindi si usano questi zigbee che consumano meno e per poterli comandare dall'applicazione serve un hub un hub tipo questo che è il sonoff zigbee bridge ci sono altre possibilità altri hub ma questo ad esempio quello che uso io ed è uno dei più versatili tra l'altro economici e facilmente reperibili hub zigbee per quanto riguarda l'app e we link chiudiamo il dispositivo a questo punto voi dovrete montare la valvola direttamente sul termosifone perché non appena acceso il dispositivo farà una fase di inizializzazione il pistone andrà tutto fuori e tutto dentro per fare una taratura del movimento dopodiché visualizzerà la temperatura perché vedete adesso questo è un pistone tutto fuori quando invece si ritira va tutto all'interno ed è questo movimento che aziona la valvola del vostro termosifone spengo un secondo le luci vi faccio vedere che il display una volta montato è molto leggibile molto carino 19 potete variare la temperatura col mezzo grado semplicemente dalla ghiera e questo sarà il comando manuale che voi farete se non volete usare l'applicazione basta alzare i gradi e lui automaticamente lavorerà di conseguenza come lavorerà lavora in questo modo se io alzo la temperatura la porta ad esempio vediamo dove arriva a 35 vedete che si accende la fiammella vuol dire che in questo caso sta facendo scaldare termosifone se io abbassero la temperatura almeno di quella che c'è in questo ambiente si spegne la fiammella il pistone rientra all'azionamento in base a quello che lui rileva praticamente questo pistoncino comandato da un motorino apre e chiude la valvolina che c'è sul termosifone e adesso ve la faccio vedere fatto questo possiamo aggiungerlo nella nostra applicazione apriamo la nostra app we link andiamo nel dispositivo in questo caso zigbee bridge p dobbiamo aggiungere un dispositivo per aggiungerla dobbiamo mettere modalità di accoppiamento quindi dobbiamo premere per far accendere il termostato ruotare fino a leggere off tenere premuto tre secondi in questo modo vedete che si accende il simbolo del wifi e va in modalità accoppiamento andiamo nel nostro zigbee bridge p facciamo aggiunta parte la ricerca di un dispositivo vedete un dispositivo trovato prossimo e lui l'ha aggiunto quindi possiamo tornare indietro e vedete che troveremo il nostro trv zb insieme a tutti gli altri dispositivi entriamo nel dispositivo nuovo firmware disponibile facciamo prima cosa l'aggiornamento passiamo in questo caso dalla 108 alla 111 ok mentre si aggiungerla possiamo intanto andare a montarla bene come si monta qui abbiamo la nostra testina termostatica questa ad esempio una careffi basta tenerla un po spinta se è duro muoverla e viene via esattamente come la valvola sonoff questa ghiera andrà avvitata su questa riduzione di plastica e la funzione del motorino è spingere questo perno ok questo è il lavoro che fa una testina termostatica sulla valvola di un termosifone tolta questa andiamo a mettere questa vedete che è la stessa ghiera non abbiamo neanche bisogno di adattatori e questo in italia è uno degli attacchi più diffuso se così non fosse ricordatevi che avete tutti gli adattatori del caso quindi noi dobbiamo solo appoggiarla imboccare la ghiera girarla col display visibile io in questo caso ho una mensola sopra mi darebbe fastidio magari tenerlo troppo dritto però diciamo che la sua posizione naturale potrebbe essere quella col display in su tenete premuto avvitate la ghiera fino in fondo a questo punto mi va in errore perché manca la calibrazione quindi gliela facciamo rifare in questo momento si sta muovendo il motore vedete in fase ad fa automaticamente la calibrazione e sente qual è la giusta corsa per aprire e chiudere la valvola quando ha finito vi dice intanto che è connessa e potete gestire l'accensione e lo spegnimento sia da pomellino quindi da regolazione manuale in automatico vai risparmio energia si spegne sempre il display non abbiamo modo di vederlo se non schiacciando il pomello stesso rimane un'estetica molto gradevole non è invasiva chiaramente la scritta sonoff non sarà mai allineata perché corrisponde con la posizione in cui lasciate la regolazione ma voi saprete semplicemente sempre a colpo d'occhio la temperatura impostata se sta abilitando o meno il passaggio dell'acqua calda se noi adesso abbassiamo il motorino dentro sta girando va a chiudermi il passaggio dell'acqua calda il funzionamento è semplicissimo il fatto che possa essere gestito con un accessorio smart anche in luoghi dove non c'è un termostato ma dove c'è un riscaldamento condominiale vi consente di migliorare il comfort degli ambienti perché magari alcuni sono troppo freddi troppo caldi vi consente di tenere magari di scaldamento spento tutto il giorno e accenderlo solo prima di arrivare a casa quindi di avere un risparmio in termini di consumo di calorie che poi vi conta il lettore che avete montato sul radiatore non indifferente adesso che è montata funzionante tutto vi faccio vedere le varie impostazioni che si possano decidere in app entriamo quindi nel nostro dispositivo dopo essere entrati nell'app we link trv zb non ho cambiato il nome ma chiaramente andando qua nelle impostazioni sul nome lo potete ad esempio chiamare valvola cucina salvate il dispositivo prende il nome che gli avete attribuito e così avrete tutte le valvole che avranno un nome per ogni ambiente qui nella schermata principale avete lo stato la temperatura rilevata nell'ambiente in questo caso 23 e il livello della batteria con uno slide qui oppure con i tasti più e meno facendo il decimale potete cambiare la temperatura in modo manuale ogni volta che toccate lui invia un comando al dispositivo e ora siamo in modalità manuale ma possiamo poi passare in modalità automatica o in modalità antigelo come facciamo a definire ad esempio antigelo qui nelle impostazioni oltre all'aggiornamento firmware abbiamo la possibilità di attribuire una stanza di condividere il dispositivo perché magari volete che vostra moglie o vostro figlio o vostro marito utilizzi anche lui l'applicazione per cambiare la temperatura ma due app e we link con lo stesso account non possono stare su due dispositivi quindi bisogna creare più account e condividerla dall'account master dove è stato accoppiato il dispositivo con l'account di chi lo deve utilizzare basta semplicemente mettere qui tutte le opzioni che volete dare per il controllo le modifiche eccetera e andando avanti vi chiederà l'email dell'account abbiamo poi la possibilità di creare un gruppo quindi di gestire contemporaneamente più dispositivi anziché uno singolarmente calibrazione di temperatura semplicemente è l'impostazione comoda e perfetta che sicuramente molti di voi usurranno perché se la temperatura che rileva la testina non è congrua con quello che è la reale temperatura nell'ambiente potete andare a modificare qui il fattore di correzione e abbiamo il 02 come decimale molto molto accurata la regolazione blocco bambini per evitare che vadano a facciocare a cambiare le impostazioni rilevamento finestra aperta non è una funzione collegata ad esempio dei contatti ma è una funzione della valvola stessa che rilevando un'escursione verso il basso troppo brusca della temperatura capisce che è stata aperta una finestra e allora come interviene se la temperatura entro quattro minuti scende più di un grado e mezzo allora imposta automaticamente la temperatura a 12 protezione del gelo e l'antigelo quindi quando mettiamo la valvola in off possiamo decidere sotto quale temperatura non deve mai comunque andare in quel caso riattiva il passaggio dell'acqua calda produttore modello id non abbiamo altro nella schermata principale dopo il manuale l'automatico o appunto l'antigelo che abbiamo appena visto abbiamo la possibilità di fare delle pianificazioni quindi per ogni giorno della settimana martedì mercoledì eccetera possiamo definire un intervallo in ore minuti e gradi per fare tutte le scene di cui abbiamo bisogno e ne possiamo fare veramente tantissime statistiche semplicemente vi dirà del dispositivo quanto lo abbiamo usato le temperature che sono state rilevate e impostate in tutto lo storico orario giornaliero e mensile storico che potete scaricare in vari modi condividendolo con un'email con un messaggio whatsapp o con qualsiasi delle applicazioni collegate una gestione molto molto semplice molto intuitiva ma fatta veramente veramente bene qua bisogna fare un plauso a suon off perché restando semplice ed intuitivo ha creato un sistema di gestire queste valvole termostatiche veramente veramente valido questa è un'ottima testina mi è piaciuta particolarmente anche perché possiamo usarla nell'ambiente e we link che sapete è la mia app preferita ho fatto poi delle prove possiamo anche comandarla tramite delle scene tipo magari quando accendiamo una luce o facciamo un qualcosa mi imposta quella valvola in on oppure in off ad una determinata temperatura qua vi lascio un esempio di una scena che si può comporre tutte cose semplici ma che vi possono anche aiutare a fare delle automazioni poi nella realtà dei fatti saranno delle testine che userete come un normalissimo dispositivo di riscaldamento quindi manuale o con fasce orari programmati per gestirle secondo le vostre esigenze mi sono trovato molto bene mi è piaciuta parecchio è anche fatta bene quanto costa adesso attualmente si trova solo comprandola direttamente in cina sul sito itiad e vi lascio tutto in descrizione ma tempo un mesetto gli amici di expert for house che vi ricordo nel nostro sito ufficiale in italia per comprare tutti i dispositivi domotici telecamere eccetera eccetera vi lascio il link per accedere al sito in descrizione con anche il codice sconto e da loro mi hanno detto che arriverà tra circa un mesetto quindi ancora un po di pazienza poi ce l'avranno disponibile in magazzino italia spedizione 24 48 ore se il video vi è piaciuto un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere connessi su tutte queste novità noi ci vediamo prossimo video prossima diretta o se passate il negozio da torino come al solito vi offre un caffè grazie ciao da massidattoli